Ciao, sono Maria Grazia, sono appassionata di pasticceria e un giorno, navigando in rete, mi sono imbattuta nel profilo dello chef Andrea Di Giglio. Interagendo con lui, facendo delle domande, mi sono resa conto quanto ancora gli avessi bisogno di imparare e così acquistando uno dei suoi corsi, pasticceria da forno, mi si è aperto un nuovo mondo. Io consiglio a tutti gli appassionati di questo campo di acquistare uno dei suoi corsi, imparerete nozioni fondamentali per la pasticceria e soprattutto avrete il supporto di un grande professionista del settore come lo chef Andrea Di Giglio, che ancora ringrazio tanto, tanto, tanto e mi ha trasmesso tanta fiducia e una nota positiva va anche alla sua assistente, sempre cordiale e disponibile. Grazie ancora, ciao!